Il primo vino della stagione, il Novello, celebrato a Milis per il ventunesimo anno consecutivo e la manifestazione ha richiamato tanti appassionati. L'inviato. Migliaia di persone, soprattutto giovani, nella piazza e nelle strade adiacenti per vedere partecipare alla festa, assaggiare per primi i vini novelli. Vini esaltati dall'anidride carbonica, profumati, floreali, belli da vedere, nella loro gamma di colori dai quali però continua a rimanere assente il porpora. I sommelier sono soddisfatti. 21 anni fa è il primo passo, artefice promotore Filippo Deida, subito affiancato da altri che sapevano vedere lontano. Solo quattro i vini della prima esposizione, oggi sono 17, un diciottesimo si è perso per strada. Qualità ottima per tutti, con un riconoscimento di continuità in più per prima macerazione Pascal Ferula. E poi i più recenti, tra di essi avaristiano, fatto dalle suore, per beneficenza ed è buono. Nel complesso un passo deciso in più rispetto al 2007. Forse anche per questa crescita tecnica c'è tanto interesse di pubblico giovane. La Proloquo ha superato i mille pasti a 15 euro, ma tutti sono soddisfatti, dai produttori del consorzio Fiore Sardo a quelli di Agrumi, dei giardini attorno. Qui si vede la differenza tra prezzo del produttore e prezzo in città.